Quando si vede un'immagine come questa, allora oggi, complici una serie di fattori, ci viene in mente il degrado, il fumo, le ciminiere, l'inquinamento, errori del passato nel non aver programmato meglio le conseguenze dell'inquinamento, decay. Quando invece vediamo un'immagine di questo genere qua, ci viene in mente il progresso. E' un server, è nella vita di tutti noi, tutti i giorni, il vostro Whatsapp, il vostro Facebook, il vostro Instagram è parcheggiato lì dentro. Ma la riflessione che volevo farvi oggi è che una volta questo era il progresso. Abbiamo tutti iniziato a vivere meglio, ci spostavamo con facilità, la bottiglietta d'acqua era più leggera, tutto alla portata di tutti, costi marginali che si diminuivano e quindi rendevano accessibili a largo consumo un sacco di beni che prima erano per pochi privilegiati. E allora la domanda che mi pongo io è, ma non è che se non stiamo attenti un domani questo rappresenterà il degrado? Se oggi qualcuno di voi butta giù a mare, stamattina molti di voi saranno andati in spiaggia, qualcuno di voi butta a mare una bottiglietta, quanto sta male? O quanto si sente giudicato anche dall'opinione pubblica? Ed è giusto, ed è giusto che sia così. Sì, quanti invece, mandando una mail, stanno male? O si sentono giudicati dall'opinione pubblica? E' da qui che mi è venuta un po' l'ispirazione di questo racconto che voglio farvi oggi. Un paio di mesi fa cercavo una corrispondenza con un cliente, ho scrollato troppo velocemente lo schermo dell'iPhone e mi sono ritrovato in una mail che mi aveva mandato nel 2011. Pronta alla mia lettura, di cui non me ne faccio niente, piena di loghi, piena di colori, piena di immagini, con un bel allegato pesante anche di una locandina, di un evento di cui praticamente tutti si sono dimenticati. E in quell'istante mi sono chiesto, ma sta mail dov'è? Cioè fisicamente dov'è? Che problemi può generare questa mail? La locazione fisica di questa mail? E allora, uno cerca in internet, no? Prima cosa da fare, guarda, ma dove vengono considerate? Il cloud. E tutti conosciamo il cloud. Una parola che ormai è diventata molto confident, no? Nonostante il mondo dell'internet da un punto di vista tecnico sia molto pieno di parole difficili da comprendere, il cloud ormai lo conosciamo tutti. Pagliamo anche, quasi tutti, un abbonamento mensile per poter lasciare in cloud. Ecco, il cloud non è là. Il cloud è giù, in questo istante. Il cloud oggi consuma suolo. Allora io ho iniziato a fare un po' di ricerche, a cercare di capire che cosa succede. Non si trova praticamente nulla. Ed è giusto così. Perché è troppo giovane questo problema, perché non c'è ancora questo problema. Certo, da qualche mese si inizia a guardare ad alcune cose legate all'ambiente rispetto alle mail, no? Report. Una mail produce 19 grammi di CO2. Eh, magari potrei produrne un po' di meno di mail, ma a me interessa le mail vecchie, non le mail che sto generando oggi. Cioè, quelle passate, ma che sono qua, nella tasca di tutti, disponibili. Così come il messaggio WhatsApp, così come la foto Instagram, Facebook, eccetera. E allora inizio a guardare un pochino che, mediamente, una mail nel mondo pesa un megabyte. Beh, comprensibile, no? Mediamente, un megabyte. Io lavoro principalmente con le aziende e inizio a preoccuparmi di capire, ma di questo quanto è generato dalle aziende? E in Europa, vedo che un'azienda, un insieme di aziende che hanno mediamente 100 dipendenti, che lavorano mediamente 220 giorni l'anno, mandano 3,5 miliardi di mail al giorno. 3,5 miliardi di mail, ciascuna mediamente da un megabyte. Dove stanno? Quanto occupano? E allora dico, vabbè, ma usciamo dal mondo aziende, usciamo dal mondo Europa, iniziamo a preoccuparci di tutto il mondo. Quante mail, privati cittadini, chiunque manda ogni giorno? 300, no scusate, 250 miliardi di mail al giorno. 250 miliardi di megabyte al giorno, che vengono depositati da qualche parte e che sono accessibili quando vogliamo, in qualsiasi momento. E noi paghiamo perché questo succeda. Quanto occupano 250 miliardi di mail che ogni giorno vengono mandate? Dove stanno? Cioè, non sono una nuvola, lo sappiamo. Dove sono qua? Un metro cubo. Più o meno. Poi non sono un tecnico, quindi mi permetto eventualmente di aver sbagliato di qualche centimetro cubo. Più o meno un cubo. E' come se noi ogni giorno pigliassimo un cubo di plastica, silicio, oro e tutto quello che serve per fare un server e lo buttassimo a mare. Perché dico lo buttassimo a mare? Perché di quelle 350 miliardi di mail mandate ogni giorno, circa l'80% non servono a niente. Non le apriamo neanche. Vanno in spam. Sono newsletter a cui vi siete iscritti o vi hanno inutilmente iscritto. Quindi noi pigliamo ogni giorno un cubo e lo buttiamo a mare. E magari il 20% lo usiamo e il 20% può tornarci comodo. Ma un cubo di un metro quadro, boom. Come se buttassimo ogni giorno per mandare una mail, una bottiglietta di plastica in acqua. Così, via mail, bottiglietta di plastica, mail, bottiglietta di plastica. Ma la cosa più interessante è che siccome noi paghiamo per produrre questo cubo, e viva Dio. C'è un'economia, giustamente, ci sta migliorando la vita questa cosa. La mia domanda, mi sono posto un problema, ho iniziato a fare un po' di ricerca, ma vi assicuro che i dati scientifici non ce ne sono. Molto difficile. Anche l'ultima stima di quante server house ci sono in Italia va del 50 alle 80. Ma non si sa, non si sa esattamente. C'è deregolamentazione su questo tema. La mia domanda è, ma sto cubo quanto vale? Quanta ricchezza sa produrre sto cubo, sto metro? 60 milioni di euro all'anno. Un cubo di un metro. C'è una buona approssimazione, non sono precisissimo. Però più o meno uno spazio, un metro per un metro per un metro, dove possiamo buttare dentro i nostri dati, che ci serviranno o non ci serviranno, e di solito ci serviranno due su dieci, crea un'economia da 60 milioni all'anno. Un metro. E allora mi sono posto un secondo problema. Ma se ho guardato solo le mail, proviamo ad aggiungere due social network, così, giusto per farci un'idea, dello spazio che viene occupato. Sto parlando di consumo del suolo, nulla di più. Facebook e Twitter, per essere semplici. In un anno, per storare i dati prodotti dalle mail, da Facebook e da Twitter, ci serve una nave da crociera. 250 per 70 per 30. Ho messo una nave da crociera proprio perché l'80% naufraga. Va giù. Non ci serve più. Ma allora faccio un passo avanti ancora. Ma è a livello mondo? A livello mondo, per me, che non sono un tecnico, diventa estremamente difficile capire, perché io conosco il byte, conosco il megabyte, conosco il gigabyte, e poi già all'inizio a dire, forse c'è il terabyte? Sì, c'è il terabyte. Ovviamente il terabyte non serve tutto qua per riuscire a dare una minima quantificazione, da profano, eh? E allora mi sono interrogato su quali sono le unità di misura seguente e ho anche scoperto che non sono ancora del tutto accettate. Cioè c'è un dibattito, c'è qualcuno che dice che dopo il terabyte c'è il petabyte, poi c'è lo zettabyte, no, prima c'è, sì, c'è lo zettabyte, poi c'è l'exabyte, poi c'è lo yottabyte, ma qualcuno non è d'accordo. E, ripeto, da profano o da cittadino normale, se cerca in internet non si trova la giusta unità di misura. Nel mondo si producono, nel 2020, una stima, 60 zettabyte di dati, datasfera. Facendo un minimo di calcolo, ma veramente un minimo di calcolo, e ripeto, con una probabilmente grossa probabilità di errore, perché ci sono troppe variabili da tenere in considerazione, se noi dovessimo continuare con questa crescita di anno in anno a produrre dati, nel 2025 ci vorrebbe, ah ho dimenticato un pezzo, scusate, questi 60 zettabyte sono largo circa divisi in 40% di dati legati all'intrattenimento, 20% di dati legati al mondo del lavoro, e il rimanente 40% tutto il resto, qualsiasi cosa che può venirvi in mente. Vi dicevo, se continuiamo con questa andatura di creazione di dati, e Dio salvi chi sta attenzionando quanto inquinano in termini di consumo, se continuiamo così, nel 2025, Vasto sarà sostituita da un enorme server alto 20 metri che copre tutta la sua superficie. 20 metri è più o meno tre volte il muro dietro di noi, no? Per capirci. E voi dite, vabbè, poco male, in tutto il mondo possiamo sacrificarla una Vasto, no? Se a livello collettivo copriamo. Ma allora io dico, andiamo al 2030, e nel 2030 ce ne vorrebbe, ci vorrebbe una superficie grande quanto Venezia, così passo per la mia città. E se arriviamo al 2050, probabilmente ce ne vuole una grande quanto Roma, da cui non rende bene l'idea. 20 metri di altezza. Poco male, ci sono i deserti, no? Dite voi, ci sarà lo spazio. Benissimo, qual è il vero problema di tutto ciò? Al di là di quanti consumi potrebbe generare e alimentare una città di questo genere alta 20 metri, fatta soltanto di server? Quello che vi dicevo prima, c'è un'economia che fa 60 milioni al metro cubo. Una follia. Perché ipotizzando che il valore generato da un metro cubo di capacità di magazzino di dati si diventi un decimo di quello che è oggi, quindi 6 milioni all'anno, nel 2050 questo è il valore dell'economia, dello stoccaggio dei dati. Migliaia, milioni, va benissimo così, salto il pezzo. No, no, torno avanti. 75 volte il PIL mondiale. Allora, 75 volte il PIL mondiale è relativamente probabile che qualcuno si accorga prima che qui c'è da fare qualche intervento perché la conseguenza prima sociale a livello macro è che si crea ancora più disparità di ricchezza, ovviamente, e anche di condizione di vita. La seconda è che questo non può rimanere un mercato a pannaggio del privato, quindi ci si potrebbe sicuramente aspettare presto o tardi un intervento governativo, penso a una tassa sui dati, per esempio. Allora, io quello che cerco di fare nella vita con molti amici, colleghi e collaboratori e anche in un contesto para-universitario è quello di capire cosa succede nel mondo e cercare di andare nelle aziende, raccontarlo e accompagnare le aziende a trasformarsi, a cambiarsi, per anticipare un pochino quello che sta succedendo. Allora la domanda che mi pongo è su questo tema qua che è nato così e poi abbiamo fatto un pochino di ricerca, nulla di più. Cos'è che si può fare per curare quel 20%? Una cosa banalissima, così come spunto, voi firmate la vostra mail quando siete a lavoro. Una mail firmata con un loghetto inizia a pesare tra i 200 kilobyte e i 400 kilobyte, contro i 3-4 kilobyte di una mail senza niente sotto. Vuol dire che cancellando, faccio un esempio, questo pezzettino della vostra firma mail state contribuendo a inquinare un centesimo in meno, due centesimi, tre centesimi in meno per ogni mail che viene mandata. È come se voi ogni giorno aveste 100 bottigliette di plastica e le buttaste tutte a mare oppure una bottiglietta di plastica e la buttaste a mare. Magari nessuna sarebbe meglio ma una contro 100 inizia a fare la differenza. Ovviamente stiamo agendo su quel 20%. Sarà anche compito di altri capire come. Questo va benissimo? Benissimo? No, no, va benissimo. Mi manda una cara amica un articolo l'altro pomeriggio, le stavo raccontando cosa sarei venuto qui a dirvi, un articolo tedesco che parla del lancio della raccolta differenziata dei dati. Quindi visto che tutti siamo ormai abituati a fare la raccolta differenziata, uno dei modi con cui iniziare a differenziare quello che è il dato che non ci servirà mai e quello che invece è un dato prezioso e quindi siamo sicuramente disposti a pagare per poterlo mantenere nel tempo, farlo sopravvivere nel tempo, è questo, avere dei, per esempio, cestini differenziati, magari con una velocità con cui viene completamente eliminato dall'esosfera il dato inutile abbastanza rapida. Allora, perché questo? Perché potremmo provare questa volta, conoscendo un pochino il contesto, a evitare che quell'immagine della fabbrica che inizialmente vi ho mostrato sbiadita, sbiadisca. Potremmo evitare, forse, sapendolo adesso, che mandare una mail non sia un reato in futuro o che ai nostri figli sia concesso, non ci sarà più, ma sia concesso di guardare un film in streaming per più di X tempo al giorno. Allora, prima che scoppino queste conseguenze sociali, il messaggio che volevo lasciare io è arriverà questa ondata, perché arriverà? C'è un problema legato al consumo dei suoli, c'è un problema legato a quanti dati in maniera spregiudicata oggi stiamo generando. Grazie. 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 Grazie.